Probabilmente la trasmissione di Stasera è già montata, già pronta, tutto a posto. Franco e Marco avranno già fatto un lavorone, però purtroppo ieri è mancato un mito blucerchiato, è mancato Mario Maraschi. Io penso che sia doveroso e spero che riescano a fare una piccola postilla per riuscire a ricordare questo grande Sandoriano che purtroppo è venuto a mancare. Io quel famoso derby ero sotto le armi, non ero presente, però è un altro giocatore che va annoverato come Sabatella, come tanti altri, nell'Olimpo blucerchiato. Non ha militato tantissimi anni nella Samp, però ha lasciato il segno. Io spero che la sensibilità di Marco e la sensibilità di Franco arrivi a tal punto che riescano a fare un piccolo post nella trasmissione di Stasera. Mario Maraschi è stato un grande cuore blucerchiato, è nel cuore di tutti i blucerchiati, ma penso che sia anche nel cuore di tutti gli sportivi. Ciao Mario, sei stato un grande. Non ti dimenticherei. Ciao Mario, sei stato un grande.